Un giorno ero in Piazza del Popolo, in Piazza del Popolo verso la fine, l'angolo dove una volta c'era una cartoleria e stavo parlando con una staffetta che era la Trovatore, Ida Trovatore, erano due sorelle, Ida e Ines, e lì erano staffetta. Infatti a lei gli avevo dato un pacco da portare in montagna e lei stava discutendo così, io non volutamente, siamo fuori dei portici, sotto i portici passa un uomo e io lo guardo, così come poi ti capita di guardare così, parlando con lei, lo guardo, lo accenno così, dopo un po' mi sento toccare la spalla. Mi giro, ed era quello lì, gli dico, desidera, mi faccia vedere i documenti, e lei chi è? Brigata nera. Adesso siamo in brigata nera, brigata nera. E allora gli dico, io tiro fuori i documenti, la carta d'identità, me l'ero dimenticata nel rifugio. Io ho detto, però mi è venuto in mente, ne avevo due, io avevo la carta, avevo la tessera universitaria, la tessera universitaria c'era scritto Reggio Università di Genova, Pagnini, Settimio, Nato, A, B, eccetera, studente universitario, facoltà di economia e commercio. Era un documento ufficiale, gli dico, questa è la mia carta d'identità. Ah, questo qui dice, ah, io questo non la conosco, io non la riconosco, ma come non la riconosco? C'è scritto Università di Genova, c'è tutti i dati, sotto, studente universitario, davanti alla copertina, perché era un libretto, no, così, la fa, ah, niente da fare, no, questo lei, ah, lei è un partigiano, come io sono un partigiano, come fa a saperlo? Insomma, sono distrattoni, mi ha portato in federazione, ce la farò a non parlare. Sai, mica tanto, mica tanto facile, eh, dire, ah, no, non ce la farò, bisogna avere anche un certo fegato. E in federazione mi ricevono due giovanotti, avrà avuto sieno 18 anni, i famosi fratelli Zunino. Ah, loro partigiano, portiamolo di là, vedrai che adesso vediamo. Ho detto, cos'è che vedete voi? Ho detto, lei, lei, senza, no, guarda, visto che anche quelli lì erano ignoranti, non capivano che il documento era valido. Sulla, sulla, sulla scalinata, ci sei mai stato dentro? La scalinata lassù, scende uno, perché hai sentito il rumore, senti uno che scende, vedi uno grosso, tutto vestito di nero, la stella qui, la morte, i gradi, e da lassù, e grida, «Seppimio, che fai?» E io ho detto, cavolo, chi è questo qua che mi cerca? E vedete, e quello là, comandante, questo è un partigiano, e lui da lassù, ma che, gridava, ma che partigiano viene giù? Lui sapeva tutto di me, perché questo è il problema. E ho detto, ma andiamo bene qua. E dice, voi, quello, così subito, voi, quello che ha fatto lui, non lo farete mai. Sapeva già tutto di me, eh? Ha detto, sta a vedere, adesso io sono un disertore, questo qui non vorrei che mi... No, 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 invece è stato corretto. Allora, ha detto, voi mettete solo attenti. No, no, non ci mettiamo, e vi strazionavano. Le ha detto, voi non strazionate più niente, perché questo qua è un ufficiale degli Alpini che ha fatto la guerra. Voi la guerra non l'avete mai fatta, non la farete mai. Così, eh? Mi mettete solo attenti e l'ho salutato, e non volevano. E io sono detto, di a me, finché va avanti così, andiamo bene. Era un mio compagno di scuola, di Genova, si chiamava Cardi. E lui, sai, dice, ma me dice, cosa fai? Ma questo qui, perché l'ho guardato per attraverso, l'ho fatto vedere il documento, non ho la carta d'identità, ma questo qua è un documento valido. Ma gli ha detto, ma se questi qua sono ignoranti, cosa vuoi farci? Così, eh, a quello là. Se lei non sa leggere e scrivere, sa leggere e scrivere. Ma questa è una storia così, eh? E io, sai, tremavo con una foglia. Ha detto, qui, quando esco io da questa situazione. Un bel momento finisce e dice, basta, le dice, così decisamente. Basta, mettete sull'attenti e salutate. E lei che l'ha fermato, poi ne parleremo, ne parleremo a testa a testa. E poi mi dice, vieni, salutatelo, perché questo qua è un tenente degli Alpini, ha fatto la storia. E mi porta fuori. Ho detto, beh, finché va così, va bene. Allora fuori, sai, mi dice, eh sì, hai ragione, io ho da fare con degli ignoranti, caro mio, se sapessi che vita che faccio con sta gente. E lo so, dico, ma capisci che se non sanno leggere e scrivere, io cosa ci posso fare? Sì, ma però è meglio che ti prendi la carta d'identità, visto che non capiscono i documenti. e mi ha detto, poi mi dice, sai, avremo bisogno di gente come te, che avete fatto la guerra. Insomma, che, ho detto, guarda, ho già fatto la guerra, ne ho già abbastanza. Tu ne hai mai vista la figurina che fa i fumetti quando corre? Passato via il comune, non aveva visto più nessuno per parecchio, eh? E questo è l'incidente classico.